Gianluca Codina, Canon Italia, mi occupo dello sviluppo del mercato della videoproiezione in Italia. Grazie e grazie a Connessioni, a Ligra e a tutti i partner di questo evento, soprattutto grazie ai partecipanti. Abbiamo voluto affrontare delle tematiche, spero interessanti, dando degli spunti su anche il cambiamento del mercato museale. Io personalmente ho apprezzato molto gli interventi degli altri relatori, spunti interessanti sullo storytelling, sull'evoluzione e la parte di creatività che esiste in questo mercato. Abbiamo visto che è un mercato in sviluppo, ora insieme cogliamo queste opportunità che oggi abbiamo visto in modo più concreto. Grazie ancora a tutti.